Partita dell'Ischia contro la Versa Normanna molto positiva per gli Solani però adesso c'è da giocare il ritorno, tu che pensi? Sì, meno male che la migliore Ischia della stagione ci sia stata proprio in questa partita la più importante del campionato si è vista una netta differenza tra Ischia ed Aversa che noi già avevamo presentato e fortunatamente la squadra di Maurizio è riuscita a ribaltare quel piccolo svantaggio dettato dalla peggior posizione in classifica ora però non bisogna rilassarsi, bisogna andare ad Aversa con lo stesso piglio, con la stessa attenzione con lo stesso carattere che è stato dimostrato alla Marzella Sabato perché sicuramente la Versa partirà subito a mille per cercare di ridurre subito lo svantaggio sarà importante gestire al meglio la prima mezz'ora di gara perché superarla con un risultato di parità significherebbe poi poter giocare anche col cronometro e sfruttare la fretta che poi la Versa avrà a disegnare Senti, situazione ambientale secondo te sarà particolare, particolarmente aggressiva oppure tutto regolare? Ma dalla parte della Versa sicuramente ci sarà molta tensione infatti la squadra è stata accolta con degli striscioni ed anche con una forte contestazione da parte degli ultras della Versa che però hanno anche un po' deluso perché ci aspettava almeno un centinaio di presenze al Marzella erano soltanto 29 invece i tifosi arrivati dal comune casertano ci sarà invece un grande esodo dall'isola verde per Aversa ci sarà quindi ancora una volta il dodicesimo uomo in campo invocato da Maurizzi e che Ischia poi soprattutto Sabato al Marzella già aveva risposto alla c***a